Come stanno proseguendo i lavori all'interno dell'ex chiesa del Carmine? I lavori stanno proseguendo direi bene appunto alla luce di ritrovamenti anche importanti di apparati pittorici di fine 300, inizio 400, 500 un po' a testimonianza di tutta quella che è la storia di questa chiesa che è iniziata nel 1934 e finisce oggi forse con questo restauro tra l'altro abbiamo trovato anche un frammento, un metro quadro circa di mosaico romano durante gli scavi che abbiamo fatto prima di iniziare i lavori, gli scavi archeologici quindi insomma diciamo che un po' di soddisfazione ce la sta dando Oggi qui a Palazzo Farnese sono presenti degli esperti del settore Vedranno un cantiere in svolgimento molto interessante perché è molto vasto che comprende tanti aspetti che sono quelli del consolidamento statico, del riuso di tutti i locali e poi scoperte di apparati pittorici che non erano conosciuti in quanto coperti da scialbi dati successivamente nel tempo quindi insomma avranno modo di vedere un lavoro in itinere come viene svolto Stiamo organizzando con l'Istituto del Commercio Estero un workshop internazionale del restauro in occasione del Salone del Restauro di Ferrara quindi una visita che parte da Milano e che finirà a Venezia passando per il Salone giovedì Una delle tappe più importanti è Piacenza con un intervento molto significativo che è quello della Chiesa del Carmine sia in termini di riqualificazione a livello economico da parte del Comune di un edificio molto importante e parte della storia della città sia a livello simbolico come tecnologie tecniche di restauro che si stanno adottando nel cantiere Le finalità della nostra agenzia appunto finanziare progetti come in questo caso che promuovono l'internazionalizzazione delle imprese all'estero quindi l'export delle imprese italiane Il settore del restauro è un po' particolare quindi interviene anche la formazione, il training quindi abbiamo invitato degli operatori da nove paesi da Cuba, Albania, Bulgaria, Stati Uniti, Libano, Kosovo, Iran, Turchia che provengono da istituzioni culturali, ministeri della cultura appunto per venire a conoscere le tecniche che sono usate dalle nostre aziende oltre che ai prodotti Grazie a tutti